Misera, avevi detto ci vuole un cambio di passo con l'inizio del girone di ritorno, sei soddisfatto di questa vittoria? Sì, sono soddisfatto per il risultato perché ci voleva, era una cosa che proprio avevo chiesto con tante insistenze ai giocatori perché al di là delle prestazioni che abbiamo sempre fatto in modo discreto, ci servivano i tre punti. Oggi sono arrivati con grande sacrificio, noi da parte nostra ci mettiamo sempre tantissima voglia, tantissima determinazione. Penso che abbiamo giocato con la terza in classifica, una squadra che aveva preso 13 gol, 14 gol, non ricordo bene, una grandissima difesa, siamo riusciti ad ottenere il risultato pieno, questo è un grande risultato. I nuovi come li hai visti, forti e poi nel secondo tempo cruciali? Vabbè ma li conoscevo bene, io avevo paura che non si integrassero nella nostra mentalità, nel nostro gioco, ma l'hanno fatto benissimo, vabbè Cruciani lo conoscevo perché già aveva lavorato con me, ma hanno dato veramente un impatto importante alla partita, alla squadra, la squadra hanno capito che sono giocatori importanti e quindi adesso ci dobbiamo divertire il girone di ritorno. Conachini una sconfitta a Teramo con un po' di veleno nel finale, con un'espulsione, con quell'episodio super rotta, come l'ha vista? Mi dispiace per il risultato, probabilmente, probabilmente, dicono, è stata sicuramente una partita delle più affascinanti, ma mi sembra stata una partita molto equilibrata, quindi il dispiacere c'è per il risultato, per la squalifica, per le mie espulsioni, sono veramente avvelenato perché non gli ho detto assolutamente niente e chiaramente è la parola mia contro la parola del guardarigna, per cui sicuramente ci andrò a rimettere io, ma la realtà è che purtroppo c'è stata un'incomprensione e quindi sono veramente ancora molto più dispiaciuto di questo. L'episodio come l'ha visto? L'episodio sul rigore, sai, dalla panchina si vedeva benissimo, quindi non riesco a dare una valutazione, sinceramente.